Gennaro, iniziamo subito dal grandissimo gol. Sì, è stata una bella azione che poi riproviamo durante la settimana, però al di là dei gols, secondo me, la prestazione fatta dalla squadra, una prestazione importante sul campo difficile, ci speravamo che potevamo portare i tre punti a casa, però è importante questa prestazione che poi dobbiamo riportare domenica a Roma, cioè domenica a Verona con la Lazio. Tu napoletano con il Napoli hai un conto aperto, sembra. Sì, è vero, perché non è capitato due anni fa di fare gol, quest'anno, niente, però come ho detto pure dati i colleghi, l'importante è aver fatto punti su un campo difficile e elimare i piccoli errori che durante una partita facciamo e continuare su questa strada. Nelle ultime gare sembra che tu sia tornato nella miglior condizione fisica. Sì, è vero, io all'inizio faccio sempre un po' più di fatica, però resta il fatto che quest'anno ancora non mi devo far male, perché negli altri anni, quando sono qua a Verona, sia a ottobre che a novembre mi faccio sempre male, però sto avendo più continuità e quindi avendo più continuità automaticamente, mettendo partite nelle gambe, fisicamente stai meglio. Tuo numero di maglia è 17, gol al 17 minuto, la cavola ha giocato bene. Questo non lo sapevo, quindi sai che noi 17 siamo molto scaramantici, quindi 17 Napoli la disgrazia, però mi sa che stasera ha portato bene. Mancano solo ultimamente i tre punti, speriamo magari domenica. Sì, sì, dobbiamo fare quest'atto lì e sono convinto che ci tireremo fuori da questa situazione perché siamo un ottimo gruppo, una buona squadra e domenica la dobbiamo dimostrare contro un'altra grandissima squadra e quindi dobbiamo lavorare sempre in settimana per arrivare la domenica nel migliore dei modi.